L'idea nasce dalla voglia di far parlare bene della Sicilia e di far parlare dei propri prodotti che la rendono unica in tutto il mondo. Troviamo da imprese del settore food dolci, a imprese del settore agricolo, a imprese del settore chimico industriale, a imprese dell'artigianato, ma troviamo anche un modo dinamico e particolare di coinvolgere le imprese perché c'è un'area show cooking, un'area talk, tanti ospiti. State già pensando alla prossima edizione? Sì, noi stiamo già pensando alla prossima edizione, ma siccome la nostra mission è quella di connettere le persone e le imprese e valorizzare il mezzogiorno, per noi c'è un progetto più ampio che è quello di rendere più forte e dare più forza al territorio del mezzogiorno, della Sicilia e di Palermo. Abbiamo fatto Sicilia che piace, un bando che ha dato la possibilità ai comuni, alle associazioni, ai privati, di poter fare attività di promozione, attività di intrattenimento e soprattutto ha permesso quella relazione commerciale che si crea nei momenti in cui ci sono degli spazi espositivi, delle fiere, dei momenti di intrattenimento. Ecco, devo dire che è stato veramente un bel percorso, abbiamo finanziato centinaia di progetti e oggi la testimonianza, vedendo tutta questa gente, che abbiamo centrato l'obiettivo. È un bando che riproporremo il prossimo anno perché veramente ha dato risultati ottimi in tutta la Sicilia. È sempre stata un'azienda a conduzione familiare. Quanto è stato importante per la crescita e lo sviluppo? Tantissimo appunto, proprio familiare e familiare, da loro due, marito e moglie, piano piano i figli, quindi mio marito, mi sono unita anch'io a loro e oggi possiamo dire che anche i miei figli piano piano vedono quello che è la loro azienda e quanto è importante. Abbiamo comunque tanti dipendenti, uno in particolare che è con noi da 45 anni. Iniziamo intanto 50 anni fa dal pane, dalla panificazione, negli anni piano piano con tutto quello che è i prodotti da forno, quindi biscotti, tutto quello che può essere il mondo del panificio. Dieci anni fa iniziamo dai panettoni che per noi oggi sono il nostro motivo di orgoglio. Tutto rigorosamente fatto a mano e in maniera artigianale. Oggi tutti guardano al marchio Rio, guardano con grande rispetto e questo per la Sicilia, per un imprenditore che ha costruito 50 anni fa un marchio assolutamente innovativo, in un settore particolarmente, voglio dire, difficile per la Sicilia, perché la Sicilia con la chimica ha poco a che vedere, ovviamente non si tratta di prodotti particolari, la Sicilia che ha grandi eccellenze nell'agricoltura e nel turismo. Invece sulla chimica non aveva questa grande potenzialità. Benissimo, Pietro Murani è riuscito, materialmente possiamo dire a tutti gli effetti, di porre in essere un marchio che oggi è conosciuto a livello nazionale.